ciao fanni e benvenuti alla nuova puntata della PuccioCraft e quest'oggi vi porto qualcosa di interessante e simpatico ovvero la costruzione di due piccole cose molto interessanti utili per quanto riguarda la nostra storia su questa piana bioma grande allora come potete vedere sto preparando questo stack importante e bello sostanzioso di ferro perché adesso unendo questo qui unendo questo ferro a un altro materiale simpatico che tutti magari non sanno a cosa serve ovvero il la zucca illuminata guardate che cosa succederà 1 2 3 4 e possiamo dare il via alla nascita di golemuccio eccolo qui che ci guarda con quegli occhietti rossi un po da trocatello vabbè scherzo e vabbè adesso voglio portarvi la costruzione di una cosa importante comunque volevo darvi la buona notizia che questi giorni ho trovato dei materiali utili per noi ovvero ho trovato qualche diamantino un po di ossidiane ho trovato un libro e tramite questa costruzione ovvero libro in alto due diamanti nel nella zona laterale centrale e quattro ossidiane posizione posizionate in forma di piccola pera e piramide esce una piccola e importante incanti in table oppure tavolo di incantazioni con cui potremo incantare i nostri oggetti andiamo a prendere subito i nostri lapislazzoli posizionamoli qui incominciamo incantare un po si primo oggettino uscito l'indistruttibilità 1 va bene mi accontento questo pure uscito questo efficienza efficienza 1 va bene la nostra spadina che cosa possiamo fare affilatezza 1 si va benissimo così la visualizzazione ancora ci servono e adesso andiamo a fare i nostri vestitini scarpettine protezione facciamo protezione 1 perché comunque non è male anche questo posizione 1 perché comunque non è malaccio protezione da proiettili va bene perché anche questo serve e protezione a fuoco va benissimo mettiamo anche questo e adesso rivestiamoci e rimettiamo a posto anche questi lapislazzoli vedete ragazzi il mio personaggio va anche un po più veloce rispetto a prima perché appunto questa incanti in table serve proprio a questo per poter avere maggiori quindi opportunità di aumentare anche la sopravvivenza e anche comunque la velocità eccetera 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 dei nostri personaggi quindi adesso che dire possiamo trasformare la nostra partita da pacifica a normale ed ecco qui andando golemuccio non so cosa sta facendo qui è sceso giù a curiosare curiosone e andiamo a cerca di qualcosa di interessante se golemuccio viene no golemuccio si è buggato all'asta grande sta saltellando come un come un idiota no perché me lo volevo portare con me però evidentemente in questo momento non gli va di fare nulla golemuccio si sposti si sposti andiamo venga con me che succede se gli ho dato una botta ah no poveraccio gli ho dato una botta e ci è rimasto male ah no però viene sta seguendo venga golemuccio venga andiamo andiamo qui sotto scenda le scale signor golem scenda le scale signor golem la devo intanto la devo convincere perché non vuole scendere venga con me signor golem vediamo se ci sono dei mob no sembra di no sembra che non ci siano ma non si sa mai andiamo a vedere che c'è qua il nostro golem si è fermato come al solito non vuole fare nulla sfaticato va bene dai andiamo e ti faccio lavorare un altro giorno venga con me signor golem andiamo a fare qualche altro lavoruccio andiamo a prendere qualche altra pietra nera ovvero ossidiana perché ci può servire perché nella prossima puntata uh ragazzi guardate che cosa c'è qui un altro golem perché mi ero dimenticato questi giorni che ne avevo fatto un altro di prova e quindi adesso ce ne abbiamo due abbiamo due golemucci però il secondo visto che ci sono darò a voi l'opportunità di dargli un nome quindi avrete voi l'opportunità di dare il nome al mio golem e probabilmente è quello che avrà più voti vincerà appunto il nome da dargli si sta iniziando a fare notte io direi di prepararmi alla battaglia vediamo che cosa succede il nostro altro golem non so che fine ha fatto eccolo qui sta gironzolando a modo suo vuole fare tutto come gli pare ammazziamo l'uccelletto allora signor golem venga qui mi segua non ha niente da fare oggi venga con me ho detto venga con me e non mi segue che fa? si ribella al suo creatore che fa lei? si ribella? non viene? portello non vuole eseguirmi? portello oh ci sono già due ragni tanti ragni noto tanti bei ragnetti e un creeper in alto si si e c'è tutto qui ragazzi proprio tutta l'allegra fattoria guardate e andiamo a rompere oh eccolo qui un bello scheletrone da rompere i pallini venga signor scheletro che dobbiamo testare la capacità di golemuccio si ma golemuccio si sta mettendo nei guai in quanto ci sono tanti creeper tanti creeper troppi creeper oh madonna vedo G già da lontano lui cocombatte golemuccio uccide anche quei creeper mi faccia questo regalo no e creeper mi vuole fare regalo a me però vada n vada n scheletro di merda grandissimo scheletro ti ringrazierò a tempo debito per aver ammazzato al posto mio al creeper grazie grazie sei un fenomeno sarai ricompensato con una polvere da sparo oddio quanta roba che c'è qui quanta brutta roba quanta brutta gente che c'è due scheletri diecimila creeper e qui sembra di stare a Baghdad questa ragazzi non è una zona è Baghdad perché ogni tre per due gira qualcuno che potrebbe saltare in aria benvenuti a l'hackbar craft guarda ci faccio signor creeper io l'ho fatta fuori per chi mi sembra giusto così che lei è troppo tog life ma io direi di andarci a rinchiudere in casa eh non per dire ma l'idea di rinchiudersi in casa non mi sembra proprio malaccia creeper ci rincorre no il creeper oh guardate qui i zombetti facciamocelo in cuore dagli zombettini signor golemuccio guarda un po' lo zombettino che viene a trovarci guarda 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 là golemuccio bravissimo guarda visto che le viene a rompere le palle bravo golemuccio grande colpo sarà ringraziato prossimamente con qualcosa in ferro visto che te piace il ferro sei di ferro noto qui tanti zombetti che ci fate qui davanti la ah guarda quegli zombi che stanno guardando davanti alla finestra perchè c'ho i villager è veramente qualcosa di comico salve guarda che per vedere qua dovete pagare il biglietto dovete pagare il biglietto ah c'è lo zombi villager ah ok vabbè beh che dire io mi vado a rintanare in casa e chiudo qui la puntata per oggi abbiamo fatto i nostri chillamenti giornalieri chiudiamoci subito ed ecco qui ragazzi prossima puntata ah eccolo vedi a che cosa è servito ammazzarlo prima il creeper e lo skilletro abbiamo troppato il disco i mellochi non so che roba è però appena si potrà lo farò vedremo che cosa serve quindi cari fani chiudiamo qui questa piccola puntata nella prossima creazione del nether e andremo a ammazzare un po' di zombie pigman dai proviamoci quindi se vi è piaciuto il video mettete mi piace datemi qualche consiglio da dare al nostro golemuccio perché serve un nome al secondo golem il primo è il golemuccio il secondo lo dovete dare voi e alla prossima puntata con la solida puntata domenicale della Puccio Craft ciao 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 fanni grazie a tutti Grazie a tutti.